Sono Buongiorno a tutti, scusate per il ritardo ma siamo qui alle 8.52 collegati da Maus Maus nei pressi di Vipiteno da cui anche il famoso burro che è qui a colazione a disposizione appunto nel buffet appunto della colazione dell'hotel Stauffler, della famiglia Stauffler e sono qui con lo chef che stiamo vedendo tra l'altro anche in video per gli amici che poi lo ritroveranno anche su Youtube oltre chiaramente alla messa in onda e quindi buongiorno, buongiorno a Peter Geertler, eccolo qua, 4 stelle categoria dell'albergo si vede molto bene ma sotto abbiamo, oggi cos'è? Indossiamo la giacca? Ancora Gomio, anche perché Gomio da parecchio tempo celebra questo ristorante della famiglia Stauffler dove ci sono sì le Stauffler, sono due sorelle ma c'è anche uno Stauffler quindi un terzo figlio quindi del grande patron che si occupa, noi siamo qui proprio nella stiube gastronomica si occupa di questa parte qua che si dovrebbe vedere anche in video, si vede oltre qui alla finestra della stiube, l'unica finestra appunto della stiube, una stiube sia in legno che in muratura, quindi non completamente in legno, ha un nome, ha un nome questo tipo di stiube fatta così, di che origine è? Stube Einhorn, ecco vabbè, ok. Einhorn si dice in tedesco e in italiano quando si traduce...